Una bella soddisfazione personale, insomma tre gol e soprattutto credo un pareggio che dà morale e dà un ulteriore messaggio al campionato. Dà il solito messaggio che noi cerchiamo di dare da quasi metà del campionato, perché giocare con professionalità, con dignità, con grande grinta e determinazione è semplicemente onorare questa maia. Lo facciamo per i nostri tifosi, lo facciamo per la nostra professione, lo facciamo per tutti i dirigenti che sono in Parma e per tutta una situazione che si è vonda a creare, come voi ben sapete. Quindi lo facciamo veramente con grande professionalità e oggi queste qua si chiamano soddisfazioni. Come è successo a fine partita? È successo qualcosa di triste, qualcosa di triste perché sentirsi dire delle frasi ingiuste e scandalose, secondo me anche riduttivo chiamate scandalose, da parte dei colleghi del Napoli, da parte dei dirigenti soprattutto, sentirsi dire che siamo falliti, che siamo retrocesse e che giochiamo con cattiveria, secondo me è triste. Il calcio non deve andare in questa direzione, il calcio deve cambiare, non devono succedere queste cose. Io credo che sia semplicemente normale giocarsi una partita normale, soprattutto giusto giocarsi una partita come quella che abbiamo fatto oggi e onorare questa maglia con grande professionalità. Forse il Napoli pensava che arrivando qua noi regalavamo la partita, noi non regaliamo niente a nessuno, l'abbiamo detto dall'inizio dell'anno. E penso che il calcio debba essere questo, deve cambiare proprio la mentalità. La Fai, un gol da Napoletano al Napoli. Sì, ma io ci teniamo, al di là che sia il Napoli, ci teniamo a fare bene oggi perché per aiutare la mia squadra, per aiutare la mia situazione, magari anche futura. E quindi mi sono tolto una bella soddisfazione. Ma nello specifico il Napoli di cosa si lamentava? C'è stato un contrasto magari di cui si sono lamentati, ho visto scintire tregui in Emirante, è volata qualche frase già durante la partita? No, no, si lamentavano che noi avessimo giocato con grande determinazione, con grande cattiveria e rimarcavano il fatto che noi fossimo falliti e che siamo retrocessi, siamo ultimi in classifica. A voi cosa vi importava di questa partita? Io penso che sia ingiusto, sia proprio triste questo, sia triste proprio per il calcio. Ecco, quindi ci tengo a precisarlo, è davvero triste da parte di colleghi e dirigenti se intressi dire queste frasi. Iguain forse era nervoso anche perché davanti ha trovato un Emirante specitoso, all'inizio pensavo si fosse arrabbiato perché gli aveva parato quasi tutto. Ma quello fa parte del calcio, è normale che Iguain è un grande calciatore, Mirante è un grande portiere e oggi ha vinto Mirante. Quindi non deve arrabbiarsi in maniera calcista, cioè calcisticamente parlando non si può arrabbiare e poi dire certe frasi. Quindi secondo me è davvero ingiusto e triste. Quelle frasi sono a fine o anche durante la partita? Vi invitavano a non impegnarvi? No, verso la fine, gli ultimi minuti. Non è che ci invitavano a non impegnarci, ci dicevano queste frasi che era sottinteso. Poi ovviamente che noi potevamo giocare con meno professionalità e con meno cattiveria. Ci abbiamo messo davvero il cuore oggi per questi tifosi, per la maglia, per tutto davvero. Quindi noi lo faremo da qui alla fine. Sul Iguain o anche altri? No, ma a tutti, non riguarda solo Iguain, anche gli altri calciatori, non voglio fare nomi. Però io penso che il segnale debba essere che questo non deve accadere più, non può essere scontato venire a Parma e il Parma da una vittoria a una squadra che si sta giocando la Champions League. Io penso che questo si chiamano soddisfazioni e si chiama professionalità da parte nostra. Senti, il Parma si era un po' perso nell'ultimo due partite a Raffaele, l'avevamo perse male. Cosa vi siete detti, magari dopo la sconfitta di Cagliari, da cosa nasce anche questa bella prestazione di oggi? No, nasce da... ma ti ripeto, noi abbiamo affrontato due squadre. La Lazio, secondo me, in quei dieci minuti ci ha messo sotto e ci ha fatto tre gol, non ci abbiamo capito quasi niente. Poi a Cagliari è successo un po' una cosa analoga e quindi sono stati due passi falsi. Però noi negli ultimi due o tre mesi abbiamo dato davvero una dimostrazione di grande professionalità e grande spirito di gruppo. Grazie.